A proposito di palinsesso e di programmi tv, io vi ricordo che questa sera riparte anche la nuova stagione dei fatti e le opinioni, il talk show di politica e attualità del venerdì sera condotto dal direttore Carmine Perantuono. Questa sera l'analisi del voto per le comunali in Abruzzo sarà al centro proprio della prima puntata della nuova stagione dei fatti e le opinioni. Ospiti della trasmissione in onda questa sera alle ore 22 saranno i segretari e i coordinatori regionali delle principali forze politiche abruzzesi messi a confronto per commentare i risultati del primo e secondo turno delle elezioni amministrative che hanno portato all'elezione di 72 nuovi sindaci e relativi consigli comunali.